Aspetta, ok, complimenti, buonasera signori, siamo qua con i migliori in campo dell'incontro Millwall contro Real CKP, Bozza, Achille, complimenti, avete fatto due euro goal, avete fatto un'ottima prestazione, parliamo con Bozza, Bozza, com'è stata la partita? È stata una partita disastrosa, abbiamo giocato proprio bene, proprio a livello di squadra non ha funzionato niente. Vabbè, c'erano anche molte assenze oggi, tranquilla, anche il capitano, ma è reale. È per questo che non abbiamo giocato bene, che c'erano delle persone nuove, quindi... Manolo, tu hai fatto un euro goal, com'è stato? Eh, vabbè, ogni tanto capita, può capitare. Achille, ho visto gli ultimi tuoi due goal stupendi, in contropiede, davvero proprio attaccante. Eh, sono stati importanti perché siamo comunque riusciti a ribaltare una partita che sembrava ormai andata, invece nei minuti di recupero siamo riusciti a caparcela noi, hanno fatto anche loro una grande partita, noi ne abbiamo giocato bene. Complimenti, complimenti, vabbè è stata una partita molto fisica, eh. Molto combattuta, molto tosta, sì, sì, sì. Vuoi dire qualcosa tu? No. Ok, ringraziamento a chi, a qualcuno? Io vorrei ringraziare l'Ansuisa che è fuori, è un ragazzo che si è giunto ultimamente perché comunque è nuovo, io ho melli che è stato giocato bene. Bossa, tu vuoi ringraziare qualcuno? Vabbè, spero che Giorgio si possa riprendere presto e Luigi torna la prossima settimana e speriamo di rifarci la prossima partita. Adesso voglio vedere un bel gesto di fair play, un saluto a tutte e due. Bravi ragazzi, complimenti, complimenti. Grazie. 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 Grazie.